La comunità rumena, albanese, marocchina, cinese, ucraina, le regioni con la percentuale più elevata sono Lombardia 23,3%, Emilia Romagna e Veneto 11,1%, Lazio 10,9%. All'inizio del 2014 in Italia i rifugiati erano 78 mila, provenivano soprattutto dal corno dell'Africa e dal Medio Oriente. Nel 2013 hanno chiesto asilo politico in Italia circa 28 mila persone, un numero nettamente superiore al 2012, circa 17 mila. Allora, onorevole Salvini, questo vuol dire che le politiche che sono state messe in atto fino ad oggi non hanno funzionato? Sì, però è così solo in Italia, perché questi numeri non ci sono, uno va in Austria, va in Francia, va in Spagna, va in Svizzera, non è nell'Unione, comunque è al centro dell'Europa. Si può risolvere il problema? Sì. Si può azzerare? No. Non vengo a Canale Italia a dire votate Salvini, votate la Lega e cancelliamo il problema. Però si può controllare, si può limitare, si può diminuire. L'immigrazione qualificata e limitata è positiva. Ci sono tanti immigrati per bene in Veneto, in Lombardia, che lavorano, che pagano, che mandano i figli a scuola. È l'immigrazione senza controllo. Chi sta sbarcando sui barconi? Ormai ci sono i servizi segreti di mezza Europa che dice attenti perché si può infilare chiunque su quei barconi. Quando ne sbarcano 11.000 in una settimana, chi li controlla? Come stanno? Come è la situazione di salute? Ci sono potenziali terroristi? Anche perché la metà di questa gente sparisce. Tu li metti, non so se oggi avrete visto le immagini del telegiornale, dei bimbi che correvano in autostrada in Sicilia. Cioè poi scappano, sono fuori controllo. Veramente si può risolvere il problema? Sì. Però bisogna volerlo. E Renzi e Alfano non lo vogliono. L'altro tema è quello della sicurezza e delle sicurezze all'interno delle nostre città, dati purtroppo non positivi per quanto riguarda proprio la percezione. Tanti cittadini italiani non si sentono più sicuri. In che modo quindi si può intervenire concretamente anche qua dal governo centrale? Il legame immigrazione clandestina reati è evidente, anche un bimbo di 8 anni. Cosa possono fare i comuni? Usare meglio i vigili urbani, gli agenti di polizia locale. Penso a come li usavamo a Milano quando eravamo al governo di Milano e penso a come li usa oggi Pisapia come multatori. Milano è la città più multata d'Europa. O i milanesi sono diventati dei disgraziati, dei folli, oppure c'è qualcuno che è in comune e dice Vigili, invece di andare in metropolitana a controllare chi viaggia, invece di andare nei parchi o fuori dalle scuole, andate a fare multe, multe, multe. Questa è meno sicurezza. E poi a livello di governo centrale il governo Renzi ha appena approvato la depenalizzazione di 150 reati, lo sconto di pena se uno ha buona condotta. Leggevo che quel professore di Saluzzo che faceva sesso con le allieve è uscito in anticipo per buona condotta. Ora uno che molesta le allieve con tutta la buona volontà, se molesti delle minorenni anche se hai buona condotta, stai in galera fino alla fine. Quindi è un problema nazionale e locale. Ma onorevole Savini, com'è che poche persone hanno messo comunque legislativo? Perché il problema principale è che abbiamo talmente tante leggi che non ci ricordiamo quali leggi sono state approgate. Prima di applicarle c'è l'altra legge che abroga quella precedente. Una moltitudine di leggi così può concretamente aiutare il paese oppure bisognerebbe fare alla fine poche leggi ma che siano realmente poi applicate? Questo è parzialmente vero, in Italia c'è un casino, però ci sono alcune leggi che sono in vigore anche in altri paesi. Perché funzionano oltre confine in Italia no? Perché sono male applicate? Perché i magistrati possono interpretarla come vogliono? Perché i parlamenti italiani negli ultimi anni con il voto contrario della Lega hanno approvato quattro indulti. È chiaro che se tu dici l'assassino deve prendere vent'anni e poi per quattro volte dici però ti regalo due anni di sconto, se stai bravo ti regalo altri tre anni e poi la corte di Strasburgo ci condanna a risarcire i detenuti se stavano stretti. Ragazzi, detto questo, per non fare il lamento del venerdì che è pure venerdì 17, si può cambiare? Sì, questione di volontà, questione di volontà politica. C'erano le guerre quando c'era Maroni? Sì, figurati, c'era il casino in Libia, le primavere arabe. Ne sbarcavano 200 mila alla volta, no, no. Altro tema, Renzi dagli Stati Uniti dichiara che l'Italia è una bella addormentata e sulle riforme non si torna indietro. Riforma, riforma abbiamo visto, da una parte il Jobax, dall'altra parte il famosissimo documento di economia e finanza. Come valuta le riforme del governo Renzi, onorevole Salvini? Le lascio valutare, uno ha i dati economici, due ha i telespettatori, perché Salvini è di parte. Salvini ha tutta la convenienza a dire, no, Renzi sbaglia. Però se i numeri dessero ragione a Renzi e i telespettatori dicessero, però è vero io ho pagato meno tasse, però è vero mio figlio ha trovato lavoro, Salvini si attacca al tram, quindi chiedo a chi ci guarda da casa. Quest'anno hai pagato più o meno tasse, perché poi gli 80 euro, lira, vengo ai soldoni, tu che sei lì davanti al televisore, quest'anno hai pagato più tasse o meno tasse? Se hai pagato meno tasse, ha ragione Renzi, se hai pagato più tasse c'è qualcosa che non torna. Se hai trovato lavoro, ha ragione Renzi, se non hai trovato lavoro c'è qualcosa che non funziona. Ieri la Fornero è tornata a dire, a difendere la sua legge, che Renzi non tocca. Vi pare normale che dopo tre anni la legge Fornero sia ancora in vigore con centinaia di migliaia di persone che non hanno né pensione né lavoro? La prima cosa che farei al governo di Renzi sarebbe cancellare la legge Fornero. Ad esempio, rivedergli studi di settore, che vanno bene quando l'economia cresce ma non quando l'economia cale. C'è l'imbarazzo della scelta su cosa farei di concreto al posto di Renzi. L'agricoltura è già un settore in difficoltà e noi siamo quello che mangiamo. Vi pare normale mettere l'imu sui terreni agricoli? Io oggi sono andato, l'ho messo anche su Facebook, sono andato al supermercato. Uno dice, chi se ne frega, se lui è andato al supermercato. Io quando riesco a fare la spesa sono contento perché voglio vedere cosa compro. E ho fatto questa foto, non so se si può vedere, del banco della frutta. Adesso vado da qua. Ci sono i pompelmi, le arance e i limoni. I pompelmi sono della Turchia, le arance e i limoni della Spagna. Ma ora vi pare normale con un paese a vocazione agricola come l'Italia che noi per delle normative europee imbecilli che avvantaggiano l'importazione da altri paesi andiamo al supermercato. Io non li ho comprati evidentemente. Andiamo a mangiare le arance, i limoni e i pompelmi. Però, onorevole Salvini, questa famosa etichettatura, le faccio anche questa domanda. Ma questo è figlio dell'Europa. Il Parlamento europeo, di cui faccio parte, col voto contrario della Lega, è tutto visibile su internet, due anni fa votò l'accordo col Marocco per far arrivare la frutta e la verdura dal Marocco. Poi la Spagna, queste non sono robe spagnole, sono le multinazioni spagnole che vanno in Marocco dove costa meno, producono in Marocco, beccano in Spagna, così è prodotto europeo e poi portano in Italia. Questa è l'Europa. Queste sono le eurocazzate contro cui noi combattiamo. Onorevole Salvini, un passo indietro. I dati, i dati della disoccupazione giovanile, ma non solo gli over 45, 50 anni, tanti troppi, casse integrati o disoccupati che realmente, concretamente poi, non riescono a trovare lavoro. Domanda. I dati dicono che siamo al massimo storico di disoccupazione? Sì. Quindi c'è qualcosa che non funziona, al di là del Jobs Act che è appena entrato in vigore, e non si può giudicare onestamente oggi. Però evidentemente gli imprenditori dovrebbero pagare meno tasse. Gli imprenditori che conosco non vogliono licenziare più facilmente. L'imprenditore che conosco dice, fammi pagare meno tasse. Semmai assumo. Perché il Jobs Act, da questo punto di vista, è un'altra fregatura come gli 80 euro. Tema della tassazione, no? Tanti imprenditori, giustamente, delocalizzano. E imprenditori stranieri, io dico dei pazzi, si arrivano nel nostro paese ad investire. Se tu avessi un'imposizione fiscale, come c'è in altri 40 paesi del mondo, penso anche a paesi europei, come l'Ungheria, come i paesi del nord, penso alla Russia, che noi proponiamo al 15% in Italia, con la tassa piatta, si chiama flat tax, non mi piacciono gli inglesismi. Aliquota fiscale unica è uguale per tutti. Al 15% la nostra certezza è che l'Italia tornerebbe ad essere attrattiva, si abbatterebbe l'evasione fiscale, perché se uno oggi deve pagare il 60 e riesce a eludere, a fare del nero, a evadere, si difende, lo fa. Lei è certo che con il 15% di aliquota, la maggior parte dei problemi sul tema della tassazione potremmo risolvere? Questo ci dicono gli economisti che stanno lavorando al programma economico generale, che non Salvini. Salvini fa il segretario del partito e cerca di prendere le energie migliori campo per campo. Io non sono esperto di energia nucleare, di eolico, di pesca, di agricoltura e di tassazione. I numeri mi dicono che il sistema fiscale di oggi in Italia non funziona e abbassare le tasse nel mondo ha fatto incassare di più allo Stato. Questo dicono le esperienze. Torniamo al tema dei pensionati, della famosa legge Fornero. Tanti pensionati che non ce la fanno, non ce la fanno più ad arrivare al 15... 55, 56, 59 anni hanno perso il lavoro e devono aspettare 5, 6, 7, 8, 9, 10 anni prima di vedere una parte dei contributi che hanno versato. Follia. Il governo britannico ha detto se arrivi a 55 anni io inizio a darti parte dei contributi che hai versato. Proposta della Lega. Io ho detto a Renzi non vuoi approvare in Parlamento la proposta della Lega per cancellare la legge Fornero? Va bene, non voglio fare tutto io. C'è una proposta del PD dell'Onorevole Damiano che riporta a 62 anni l'età per andare in pensione. Io gli ho detto discutiamo quella del PD discutiamo quella del tuo partito poi la proposta del Partito Democratico penalizza chi va in pensione prima del previsto mentre secondo me se uno ha versato non lo devi penalizzare. Io sono per la cosiddetta quota 100. Se arrivi a 60 anni e hai lavorato a 40 anni basta chiusa finita pensione Il problema forse del nostro paese è un problema come la vedele a livello di governo centrale o più a livello di Europa? Che ruolo ha secondo lei veramente l'Italia nei confronti dell'Europa? L'Italia conta poco purtroppo e anche con Renzi non è cambiato un fico secolo dico da europarlamentare purtroppo i poteri reali del Parlamento europeo sono il 10% perché il 90% delle scelte sono della Commissione e dei governi quindi non passa dal Parlamento l'Europa ha delle regole che vanno bene ai paesi del nord Europa la Germania la Svezia la Finlandia la Polonia e via dicendo l'Italia non ha abbastanza forza per dire no si cambia penso ai soldi che i comuni non possono spendere penso alle normative demenziali sull'agricoltura sulla pesca sul commercio certo poi anche il governo centrale continua a spendere troppo cioè i comuni stanno tagliando tutto il tagliabile ci sono sindaci che mi scrivono io quest'anno non so se devo tagliare i disabili o il riscaldamento nelle scuole o la pulizia delle strade mentre a livello di ministeri a lei è sciambola quindi e Renzi su questo era partito vi ricordate la spending review i tagli i risparmi quanto è fondamentale oggi come oggi il ruolo delle regioni ha visto poi la piantina come è governato l'Italia ad oggi ci sono regioni e regioni non puoi parlare non c'è il taxista furbo il taxista che ci frega il giornalista non ci sono i giornalisti ci sono i giornalisti di Canal Italia ci sono i giornalisti di Rai 3 e sono giornalisti diversi le regioni ci sono regioni che risparmiano e che hanno il segno più davanti penso alla regione Veneto che ha la sanità una delle sanità migliori d'Europa e ci sono regioni dove crollano i ponti dove ci sono le ambulanze che girano per ore e ore dove una casa di riposo ti costa il triplo rispetto ad altre regioni quindi non ci sono le regioni ci sono regioni che governate bene la ASL di Massa Carrara in Toscana ha un debito di 400 milioni di euro cioè dove erano lì mentre questi accumulavano 400 milioni di euro di debito in una ASL a Massa Carrara le ASL della Lombardia fortunatamente hanno numeri diversi quindi un'ultima battuta perché poi deve scappare torno al tema iniziale quel tema dell'immigrazione la Boldrini dice no a propaganda se vogliamo che gli sbarchi si fermi bisogna lavorare alla radice del problema quindi qual è il problema voi leghi se non volete lavorare alla radice del problema no ma guardi io a giugno vado in Nigeria uno dei paesi da cui partono tantissime di queste persone è la Nigeria che è un paese ricchissimo anche di materie prime io però faccio quello che dovrebbe fare Renzi ovvero sia andare a chiedere ai ministri scusate ma com'è che possiamo aiutarvi a evitare questo esodo avete bisogno di soldi di scuole di strade di ospedali perché non c'è niente gratis la Boldrini la Boldrini è il peggio del peggio è una delle protagoniste di questo disastro perché la Boldrini prima di fare indegnamente il presidente della camera era l'alto rappresentante dei rifugiati dell'ONU quindi era quella che diceva andate accogliete partite ancora adesso qual è la risposta della Boldrini cosa dice la Boldrini com'è che risolve il problema Boldrini aprite la casa non so io dico fermiamoli là blocchiamo aiutiamoli là spendiamo i soldi là perché non c'è niente di gratis però non facciamole più arrivare se fosse per la Boldrini qua non ci sarebbe Canale Italia ci sarebbe un campo profughi qua ci sarebbero le brande questione rom che poi la lascio questione rom le hanno riattivato facebook le hanno riattivato i campi rom non ci sono in nessuna parte d'Europa non si sapevo che non si potesse scrivere zingaro su facebook che è un termine che io sento usare da che sono nato i campi rom vanno chiusi perché sono un ricettacolo di abuso di delinquenza sono il peggio del peggio sia per chi ci vive dentro che per chi vive fuori si sono offesi perché io ho detto bisogna usare le ruspe se qualcuno mi spiega come si abbattono le ville abusive di due piani nei parchi senza le ruspe magari la Boldrini lo fa con col fioretto però secondo me la ruspa serve la ruspa è uno strumento di dignità simbolo del lavoro della fatica della tranquillità e della serenità la Lega con Matteo Salvini continuerà a correre sempre da solo oppure ipotesi di future alleanze vabbè ma in alcune regioni penso al Veneto dove appunto abbiamo ben amministrato c'è l'alleanza con Forza Italia in Liguria in Umbria dove vogliamo evitare che la sinistra continui a fare disastri ci siamo alleati in altre realtà penso alla Toscana penso alle Marche siamo da soli vedremo il 31 maggio però chi va a votare per rieleggere o il sindaco o il governatore ha una grande scelta perché tutti si lamentano adesso di Renzi come se nessuno l'avesse votato Renzi, Alfano chi li ha votati il 31 maggio chi può votare scelga perché se le elezioni vanno come vanno Renzi rimane negli Stati Uniti col suo inglese e ce lo tegnano là grazie mille onorevole Matteo Salvini salutare feriare grazie a voi grazie ancora saluto tutti voi alla prossima grazie a tutti